Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia. Mauro Laus, da presidente del Comitato Diritti Umani, presidente del Consiglio regionale, ma soprattutto da cittadino e padre, qual è il messaggio che vuole lanciare oggi? Il messaggio è intanto lo stato d'animo. Come rappresentante delle istituzioni provo un profondo imbarazzo. 2017 dobbiamo ancora spiegare le ovvietà e le banalità ai cittadini. Si può mai discriminare una persona per il suo orientamento sessuale. Oggi l'assurdo è che le persone, i cittadini, non hanno più nemmeno il rimorso, il rimorso di quanto loro non fanno. Quindi non sto parlando di chi discrimina, ma di chi vede le discriminazioni e chi con il proprio silenzio rende fertile il terreno della discriminazione. E' imbarazzante, colpevole è anche il silenzio. Io non voglio accodarmi a chi del silenzio ne fa una ragione di vita. E per questo motivo noi staremo sempre vicino alle persone che lotteranno contro ogni forma di discriminazione. Grazie.